E salve a tutti amici di Skatefront Arco Vitali Anche se credo dovrei cambiare il nome Sendo che avevo detto che quando avrei fatto un nuovo video Su un altro gioco avrei cambiato il nome Quindi magari o ditemi voi se lo devo cambiare subito O se aspetto un po' non lo so Comunque Siamo su Project Argo Un gioco fatto dagli stessi sviluppatori di Arma 3 E infatti è praticamente Arma 3 Con le modalità di Arma 3 Un'arma 3 un po' più leggero Possiamo chiamarlo Arma 3 castrato Ci sono diverse modalità Link, Ride, Clash e Combat Patrol Link è una specie di dominio Ride è a tappe Mentre Clash è un difendi la zona Diciamo Mentre Combat Patrol è a missioni contro IA Io direi di fare Link Visto è quella un po' più Con più azione forse Non lo so Ok Join Server E allora c'è La modalità normale Che è quella con Diciamo Quella un po' più difficile Perché non vedi I tuoi compagni quali sono E quindi devi capire Dal colore delle cose Eccetera Mentre Invece Con la modalità easy Vedi quali sono I tuoi compagni Che hanno i cosetto in testa Comunque allora Qui sembra appena iniziata Sì Ok ora scatterà un po' Perché deve caricare Tutte le texture Come sempre Ora noi abbiamo conquistato tutto Quindi possiamo Andarcene su M Quindi aspettare M Che facciano cose Dai Ah Ce ne stanno riprendendo due Adesso pezzi di merda Ecco loro Non c'è granate Vedo Oh Teoricamente i nemici Sono quelli grigi Ok Che io avevo già fatto Un altro video Però poi mi sono accorto Un po' troppo tardi Che l'avevo fatto Nel formato Sbagliato Insomma nel formato Nella risoluzione Sbagliata E quindi Lo sto rifacendo Sono un compagno Non mi sparate Oh Io vado nell'aerdrop Compagni Beh Sì Perché Ce la faccio Perché sì Ma addio Non si può manco saltare Ok dai Non c'è nemmeno il nemico Vediamo Dai Ok Ottimo Andiamo verso il due loro Almeno troviamo Qualche d'uno Da asfaltare E ci siamo asfaltati A vicenda Sì Esattamente Questi giochi Abbiamo vinto No Teoricamente Oh no Li deve arrivare al massimo La barretta Ok Io direi di tornare Di tornare di nuovo Su loro due Almeno Gli rompiamo Un po' Il caso Oh Mi hanno sparato Io Io tipo Me ne vado qua Ah Non hanno preso Il nostro due E noi Contraccambiamo No Ehi amico Senti Ti sto venendo da dietro Basta che non te ne accorgi Così Ti uccido Oh E là c'è un altro E lo prendete La main adesso Bastardi Pecci di merda Abbiamo vinto Yeah Il primo round Su tre Dai 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 Comunque Ditemi se magari Vi piace Vi piace Questo gioco Se devo cambiare Qualcosa Nei Cioè io Sto facendo Sto giocando Stile Coso Stile Escape Quindi c'è Comunque Non parlo Tantissimo Però quando parlo Insomma parlo E insomma ogni tanto Qualche puttanata La dico Se mi va parlo Insomma Avete capito il concetto Insomma C'è qualcosa da cambiare Ditemelo Io non metto mai Le musichette sotto Perché Secondo me Sono inutili Cioè Non è che devono essere Insomma Secondo me La gente mette le musichette sotto Per Intrattenere Con le musichette Mentre Secondo me Cioè Se uno Intrattiene senza musichette È meglio No Non so Ditemi voi Se la pensate così Insomma Tanto sapete come farmi capire Se vi piace questo gioco Se devo continuare a portare Un video ogni tanto E così insomma Lo porto O lasciando like O commentando Insomma Tipo ormai Ho visto che Il video Quello dove ho Proposto Survive the night È andato bene Quindi Credo Di portarlo Senza dubbi Appena esce E se non mi sbaglio Tra no molto Dovrebbe uscire La cross beta Di escape from tarkov Perché Mi hanno mandato La mail Dell'hide out Eccolo qua Mannaggia Lui Mi ha fatto Powerura Come l'aspettavo E niente Qui trovo i muri Sempre i muri Trovo io Sia mai Che si possono Scavalcare Questo è il nostro 2 Sì Esattamente E perché Non lo prendono Hanno paura Allora Lì ci sono le sedie Meglio non andare Perché poi Mi c'incastro Ok Non lo stanno più Capturiggiando Oh È vero Oh La K Dammi un po' Di a K No Oh sorry Aia Non capisco Oddio Cosa succede Vaffanculo Lascio il punto Andiamo a Prendete Le airdrop C'era qualche pezzo Di merda qua Ma Guarda Come C'è Io l'ho preso in testa Sicuro al 100% Infatti è morto Però c'è Dai L'ho preso prima io in testa O puoi dire che Il ping Che lo aiuta Però c'è Dai 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 su Sembriamo tipo un po' Testa a testa Sembriamo Quindi dobbiamo per forza Prendere l'airdrop Che quello ci può dare Una mano migliore No ecco bene Con quello ci hanno un po' Inculato Andiamo Rompiamo il cazzo Su due Dai 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 Minchia continuo a fare Con una partita Uno prima Che mentre prendevano Non c'è morto No 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 Ma muorici almeno Dai un pochettino Su Ah Però abbiamo vinto Però abbiamo vinto Il round Il round ovviamente Ora come possono recuperare Questi due O come non recuperano Insomma Molto semplice La faccenda Dai due Uno Let's go Dai andiamo su B Qualcuno Bravo c'è uno che Beh avi Oh hanno capito Lo split Ok Dai Poi spero che magari aumentino Perché forse 5 contro 5 Un po' Potrebbero fare 10 contro 10 Secondo me ci sarebbe Un po' più d'azione Vediamo quanti punti da Ogni volta che Era 570 Ma No Insomma dai punti Quando si conquista Vabbè Mi andrei a rompere le palle A loro due Sì 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 Come stavo facendo Prima Gli scasciamo La minghia Ah Madonna Ho fatto paura E ora me ne scappo Via Ui 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 Uuuu Questo headshot Oh E ci siamo uccisi a vicenda O L'ho ucciso Ucciso a vicenda Ottimo Mi piace quando ci si uccida a vicenda Soprattutto in questo momento In questo modo Cioè insomma No Quando serve uccidersi a vicenda Allora va bene Però Prendiamolo noi Il nostro due No Ce la possiamo fare Io credo nel mio team Ah scusa Hihi Hihi sorry Abbiamo preso Dai Quanto ci vuole Ok Eh come supporti Eh vaffanculo Aspetta Minchia è un colpo Mi era rimasto Ne andiamoci ne verso due Oh oh Eh vaffanculo Dov'era? Ah era là in fondo Minchia ma stiamo tipo Vincendo Un pochettino Ma di poco Ok direi che dobbiamo Continuare a prendere M E forse Continuare a rompere Il cazzo Su due Ma allora Lo stanno prendendo Loro Ok quello L'ha accompagnato Ah lo stanno ancora Prendendo Ok Andiamo un po' All'airdrop Qualcuno stia Però A prendere Questo M Di merda E sto Aitano Ovviamente Ma Di nuovo Ah no ok Ancora vivo No mi sembrava Ok Loro ce l'hanno in pausa Quindi va bene Quindi Senti ma Aia Mannaglia Dai io mi diverto A rompire il cazzo Su due Quindi Ah Salve C'è nessuno No Ottimo Ah Ve l'ho conquistato C'è ve l'ho conquistato Ah ok L'ho ucciso Ottimo Oh salve E ora che si fa amico Eh abbiamo vinto Nemmeno score Niente male 16 7 Not bad Not bad Ho il miglior KD Di tutta la partita E tipo Non mi dai Il coso Dei player Di quante cose Mi ha dato No 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 direi di no Direi che c'è tipo Piantato qui Fermo Immobile Ok Va bene E quindi Va bene Ok Va bene Quindi ragazzi Che dirvi Ciò Abbiamo Abbiamo fatto Una bella partita L'abbiamo vinta 3-0 Abbiamo fatto Anche un bello score E Niente Che dirvi Se questo Gioco Vi piace Insomma Fatemelo sapere Se devo Continuare Se devo Smetterla qui Eccetera Fatemi sapere Se devo Continuare Se devo Continuare Ora Per un po' A tenere sto nome O a cambiarlo Subito E niente Che dirvi Per questo è tutto Se vi è piaciuto Spero che sia stato così Lasciate un bel like Commentate Per dirmi Ovviamente Se volete Che vi porti Questo video Insomma Questo gioco No E niente Noi ci vediamo Il prossimo video Che sarà Credo venerdì A questo punto E niente A venerdì Ciao ciao Anche prima Se ci riesco E niente